Il mio secondo anno consecutivo al Salone del Libro di Torino questa volta con un libro che si intitola Raina Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali è un libro diviso in cinque capitoli in un di questi capitoli ho affrontato una delle questioni al centro del dibattito internazionale il filo conduttore del libro sono i complessi di superiorità nell'Occidente nell'antropologia culturale esiste un approccio, cioè sono tanti uno di questi approcci si propone di individuare il tema centrale di una cultura si chiama il tema culturale, ciò che contraddistingue dal punto di vista culturale un popolo, addirittura una civiltà il filo conduttore del libro è che questo tema culturale che plasma l'identità occidentale è l'idea della superiorità, superiorità morale dell'Occidente rispetto a tutte le altre civiltà superiorità militare, superiorità economica, superiorità culturale, superiorità artistica e abbiamo visto quando è scoppiata la guerra in Ucraina come sia stata preponderante questa narrazione che ci ha fatto riscoprire le radici antiche di questi complessi di superiorità la letteratura disponibile, se voi stampaste decine di migliaia di articoli pubblicati dai principali quotidiani italiani discorsi in televisione, insomma una messe di documenti quello che emerge in maniera direi auto evidente è questa idea della superiorità la Russia è una civiltà moralmente inferiore, la Russia ha un esercito ridicolo, inferiore rispetto a quello della Nato quindi la Russia può essere sconfitta utilizzando l'esercito più debole del mondo quindi la nostra idea, l'idea dell'Occidente e della Nato è stata quella di sconfiggere l'esercito più forte del mondo utilizzando l'esercito più debole dell'universo ma i nostri pregiudizi nei confronti degli altri, i nostri complessi di superiorità erano e sono talmente esorbitanti che non ci siamo resi conto che la Russia è invece sovrastante rispetto all'Ucraina e a quanto pare la sua industria militare è addirittura sovrastante rispetto a quella della Nato uno dei dati che fanno riflettere di più è la capacità della Russia di produrre munizioni per l'artiglieria gli Stati Uniti e l'Europa insieme, non separatamente insieme, sono in grado di produrre 1,2 milioni di munizioni pesanti 1,2 milioni di munizioni per l'artiglieria all'anno la Russia è in grado di produrre 3 milioni di munizioni quando è scoppiata la guerra in Ucraina, io lo dissi sin dal primo giorno questa guerra ha un esito già scritto, l'Ucraina sarà semidistrutta, verrà schiacciata dalla Russia la Russia sta combattendo con entrambe le mani dietro la schiena mentre la narrazione dominante era questa è propaganda russa come fa Orsini a affermare una cosa del genere quando tutti sanno che l'Occidente è una civiltà superiore nel primo capitolo io individuo, metto a fuoco questo tema della superiorità dell'Occidente e faccio risalire il punto di svolta storico verso la fine del 1400 quindi il XV secolo quando iniziano le grandi scoperte geografiche dell'Occidente inizia sempre di più questa elefantiasi dell'Io dell'Occidente un'Occidente che riesce a sottomettere intere popolazioni, le colonie, le guerre vittoriose e così via e questi complessi di superiorità sono diventati esorbitanti con dell'esperienza nazista ma un'interpretazione storica errata induce a ritenere che il nazismo sia stato un unicum un fenomeno senza radici secondo molti mentre i migliori studiosi, i migliori storici hanno mostrato appunto che nella cultura nazista la cultura nazista è il precipitato di tante esperienze precedenti di tanti pregiudizi di una cultura fondamentalmente razzista che culmina con l'esperienza nazista ma che è cresciuta e si è sviluppata nel corso dei secoli una delle mie tesi è che noi, che l'Occidente non abbia reciso le radici con la cultura coloniale e di conseguenza anche con la cultura nazista in che senso? nel senso che, non sto dicendo che la nostra cultura sia uguale a quella dei nazisti sto dicendo che c'è un elemento che è rimasto immutato mentre in apparenza sono cambiati i degimi, sono cambiati i protagonisti ma questo elemento che noi troviamo nella cultura dei colonizzatori europei che troviamo nella cultura nazista è sopravvissuto il tema della superiorità dell'Occidente questo tema della superiorità dell'Occidente è stato declinato in modi diversi ma esiste questo nocciolo duro, questo abuso fiume carsico che scorre nel sottosuolo della civiltà occidentale questo complesso di superiorità e che riemerge in superficie periodicamente ai tempi del nazismo la superiorità veniva giustificata attraverso il colore della pelle il sangue, la razza noi oggi abbiamo i stessi complessi di superiorità che però giustifichiamo con la democrazia la nostra idea fondamentale è che noi siamo superiori agli altri perché siamo democratici qui ci sono due grandi problemi da affrontare il primo ha a che vedere con il processo di socializzazione e il secondo è un problema di tipo logico li affronto separatamente che cos'è la socializzazione e la sociologia? è il processo attraverso il quale un individuo acquisisce le conoscenze fondamentali per diventare membro di una società la socializzazione è un fenomeno più complesso dell'educazione perché generalmente per educazione ne facciamo riferimento all'educazione dal punto di vista formale quella istituzionalizzata le nostre società non sono complesse quindi parliamo del sistema scolastico le scuole elementari, medie, superiori, università e così via la socializzazione è un fenomeno molto più complesso perché la socializzazione avviene anche attraverso le pubblicità avviene anche attraverso i cartelloni pubblicitari avviene anche quando il papà sta guidando la macchina nel traffico di Roma e dice certe frasi quando si arrabbia e inveisce magari contro una donna al volante il bambino è in quella macchina e ascolta questo anche è socializzazione il bambino ascoltando il papà acquisisce una certa concezione del mondo ora, se qualcuno mettesse in dubbio il fatto che io mi chiami Alessandro Orsini questo per me sarebbe un fatto stupefacente perché la mia identità io l'ho costruita a partire dal processo di socializzazione quindi se qualcuno mi dicesse qual è il suo nome? io risponderei Alessandro Orsini e se qualcuno mi dicesse no, non è Alessandro Orsini io riderei però se la società esercitasse delle pressioni su di me per convincermi che io in realtà non mi chiamo Alessandro Orsini questo per me diventerebbe un bel problema ora, noi come veniamo socializzati? veniamo socializzati introniettando questa idea che noi siamo democratici e nessuno la mette in discussione se qualcuno infatti prova a dire guardate che le democrazie occidentali violano i diritti umani più delle dittature si viene aggrediti perché? perché viene messa in discussione una certezza ontologica le certezze ontologiche sono le certezze più importanti per noi perché sono relative all'essere ciò che è e ciò che non è e la nostra certezza ontologica si legge su questa idea questa è una certezza ontologica per noi se qualcuno mette in discussione le certezze ontologiche viene violentamente aggredito perché la nostra psicologia, la psicologia umana non è radicata nella natura è prevalentemente radicata nella cultura quella cultura può cambiare può essere scossa in qualche modo lo sappiamo quindi noi diventiamo molto aggressivi quando qualcuno mette in discussione le nostre certezze ontologiche ora però esiste la scienza il metodo scientifico che si basa innanzitutto sull'osservazione e se noi studiamo la storia e utilizziamo il metodo scientifico la documentazione scritta ci dice che negli ultimi trent'anni nessuna dittatura ha violato e ha realizzato stermini e massacri come le democrazie occidentali nessuna democrazia io prendo in considerazione soltanto negli ultimi trent'anni perché sono quelli con cui noi maggiormente ci identifichiamo i nostri media si identificano soprattutto negli ultimi trent'anni perché negli ultimi conduttori televisivi hanno i cinquant'anni, i sessant'anni sono stati gli anni fondamentali della loro formazione ma se noi guardiamo gli ultimi trent'anni quale dittatura ha violato il diritto internazionale come le democrazie occidentali? la risposta è molto semplice la documentazione dice nessuna le democrazie occidentali hanno condotto una guerra illegale in violazione del diritto internazionale nel 1999 in Serbia il bombardamento nato della Serbia è stato una violazione del diritto internazionale nel 2003 le democrazie occidentali hanno nuovamente violato il diritto internazionale con un'altra guerra illegale contro l'Iraq tra l'altro mentendo sputoratamente come tutti sapete sul possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein e due seri legami con Al-Qaeda in realtà Saddam Hussein era nemico di Al-Qaeda tant'è vero che l'ISIS che è Al-Qaeda in Iraq nasce come reazione all'invasione americana Al-Qaeda in Iraq non esisteva prima dell'invasione americana perché Saddam Hussein era nemico di Al-Qaeda Al-Qaeda in Iraq nasce come reazione all'invasione americana dell'Iraq e siamo a due un'altra guerra illegale in violazione del diritto internazionale nel 2003 una terza guerra illegale le democrazie occidentali l'hanno realizzata contro la Libia anche il bombardamento nato della Libia è stata una guerra in violazione del diritto internazionale nel 2015 gli Stati Uniti hanno incartato delle basi in Siria anche questo in violazione del diritto internazionale basi che continuano ad avere e poi arriviamo alla apoteosi arriviamo alla forma estrema della violazione dei diritti umani e del diritto internazionale che è il massacro di Gaza per me è un genocidio per altri è un massacro per altri ancora è pulizia etnica considerate che nella letteratura scientifica la pulizia etnica è talmente simile al genocidio che è considerato una variante del genocidio non esiste una dittatura che stia compiendo gli orrori che le democrazie occidentali compiono a Gaza ad oggi in pochi mesi in poco più di 200 giorni di guerra 35.000 civili massacrati più di 14.000 bambini uccisi con quali armi? con le armi delle democrazie occidentali perché anche l'Italia la Germania gli Stati Uniti continuano a dare a Netanyahu le armi con cui Netanyahu sta sterminando la popolazione palestinese e sta sterminando la popolazione palestinese perché le democrazie occidentali violano ancora una volta i diritti umani e i diritti internazionali in Palestina occupando terre che sono dei palestinesi questa è una guerra per consentire a Israele di non porre fine all'occupazione dei diritti palestinesi quindi è una violazione del diritto internazionale nella violazione del diritto internazionale nella violazione del diritto internazionale Biden ha dato tantissime bombe in K84 a Netanyahu sono bombe che pesano se non sbaglio addirittura 900 kg sono in grado di fare fanno crateri di 15 metri di diametro distruggono tutto quello che c'è sotto quindi distruggono case scuole moschee ospedali tutti gli ospedali di Gaza sono stati semidistrutti quindi l'osservazione scientifica lo studio scientifico dei documenti storici ci dice equivocabilmente che le democrazie occidentali sono coloro che in assoluto nel mondo violano più di ogni altro i diritti umani e i diritti internazionali uno dei libri che scrissi per Rubettino nel 2012 si intitola il rivoluzionario benestante strategie cognitive per sentirsi migliori degli altri come vedete è un tema che ha molto a che vedere con i complessi di superiorità cioè che cosa ho studiato ho studiato le strategie cognitive le strategie mentali i processi di pensiero attraverso cui noi umani cerchiamo di apparire migliori degli altri tutti i gruppi umani hanno questo bisogno di apparire migliori di quel che sono e possibilmente migliori degli altri quindi la domanda che adesso io cerchiamo di affrontare è come facciamo noi a non vedere tutto questo ci serve una strategia cognitiva ci serve un processo di pensiero per non vedere una realtà così evidente cioè che le democrazie occidentali violano i diritti umani e i diritti internazionali più delle dittature e questa strategia cognitiva consiste nel spostare l'attenzione dalla politica internazionale alla politica interna infatti come sapete sono tanti conduttori televisivi i quali sfidati quando viene detto loro sì ma le democrazie occidentali hanno fatto tutte le cose che avevano appena elencato la risposta è sì però in Italia c'è la libertà di stampa che cosa consiste questa strategia cognitiva nel chiudere gli occhi su tutto quello delle democrazie occidentali ma sacri delle democrazie occidentali negli altri paesi e richiamare l'attenzione soltanto su quello che ci fa con la politica internazionale è che una civiltà debba essere giudicata non soltanto per il modo in cui organizza la propria società ma anche per quello che fa agli altri quindi per farlo un esempio estremo per farmi capire da tutti se noi in Italia abbiamo la libertà di stampa messo che esista veramente perché poi ci sono molti modi di misurare la libertà di stampa la libertà di stampa non è che sia un concetto assoluto astratto in sociologia richiede un processo di operativizzazione cioè si se la libertà di stampa in Italia ma in che senso entro quali limiti secondo questo ragionamento se Israele lanciasse la bomba atomica su Gaza come è stato proposto più volte dai ministri del governo Netanyahu noi dovremmo continuare a considerarci una civiltà superiore perché quando andiamo in edicola possiamo comprare il libro il giornale il Corriere della Sera ecco questa è la strategia cognitiva che noi utilizziamo per continuare a sentirci moralmente superiori negli altri nel primo capitolo sto ancora parlando del primo capitolo nel primo capitolo io individuo se ricordo bene quattro complessi di superiorità nei confronti della Russia e vado a sviscerarli per esempio un complesso di superiorità io vi parlerò soltanto di uno di questi complessi per farvi capire come sia organizzato il libro e quale sia la logica del primo capitolo poi vi parlerò anche degli altri capitoli magari un po' più rapidamente e prendiamo del pregiudizio militare ho già detto qualcosa quindi nel libro presento tutti i dati che mostrano appunto che la Russia in Ucraina ha sovrastato la Nato e pregiudizio morale prendo in considerazione con riferimento a quello che la Russia sta facendo in Ucraina e quello che le democrazie occidentali stanno facendo in Palestina mostra come il massacro di Gaza sia spaventosamente più tragico e mostruoso e disumano di quello in Ucraina perché i dati parlano molto chiaramente l'esercito russo sta colpendo quasi esclusivamente militari soldati ovviamente ci sono altri morti tra i civili e questo c'ha dolore molto e lo condanniamo ma Israele spara intenzionalmente sui civili quando questo accade in Russia accade purtroppo accidentalmente la Russia non ha un interesse a uccidere le stesse persone che ambisce a governare perché perché chiaramente questa non è l'oggi non sarebbe una condotta nazionale ma prende in considerazione anche il pregiudizio intellettivo quindi immaginate il libro scritto in modo organizzato i contenuti sono organizzati in maniera molto semplice ogni paragrafo ha un titolo dedicato a un pregiudizio per sviscerarlo e uno di quelli che mi ha colpito maggiormente è il complesso di superiorità intellettivo cioè Putin è cretino Putin è stupido io presento tutta la documentazione nel libro per spiegare che i cretini siamo noi che cosa intendo dire intendo dire che la documentazione disponibile mostra che a differenza di quello che i mili italiani hanno sempre raccontato falsamente Putin si era perfettamente preparato alla guerra in Ucraina chi non si era preparato alla guerra in Ucraina siamo stati noi come dicono tutti i fatti cioè la Russia che cosa per esempio uno degli argomenti che è stato utilizzato è il complesso di superiorità noi siamo molto intelligenti Putin è cretino è talmente stupido talmente inferiore dal punto di vista intellettivo che Putin non aveva immaginato che invadendo l'Ucraina sarebbe stato colpito dalle sanzioni occidentali la documentazione disponibile mostra chiaramente che Putin aveva largamente preventivato che l'Unione Europea che l'Occidente avrebbe colpito con le sanzioni nel libro poi troverete tutta la documentazione spiego perché ma soprattutto nel libro io spiego che mentre Putin si aspettava le sanzioni occidentali l'Occidente non si aspettava di dover introdurre le sanzioni contro Putin quindi mostra non soltanto che questi complessi di superiorità sono infondati perché la documentazione disponibile mostra appunto che sono soltanto pregiudizi ma peggio ancora faccio una operazione ulteriore cioè mostro che la nostra è una classe dirigente fallita prevalentemente di falliti e di corrotti e io utilizzo come qualcuno saprà il termine corruzione secondo la sociologia di Wilfredo Pareto per corrotti Pareto non intende non intende il politico che prende la bustarella una classe dirigente corrotta è una classe dirigente per Pareto che ha smarrito le sue la sua forza vitale cioè una classe dirigente che non è più in grado di dirigere e quindi quando una classe dirigente non è più in grado di dirigere diventa un corpo morto diventa soltanto un peso per la società perché la tua funzione è dirigere se non sei più in grado di dirigere sei una classe dirigente corrotta nel senso Pareto utilizzava il termine corruzione dell'elite spesso come sinonimo di decadenza cioè elite corrotte elite decadenti che hanno smarrito hanno perso ormai la loro funzione storica che è quella appunto di proteggere la società che governa se noi guardiamo gli errori che la classe dirigente europea ha fatto in questi anni il discorso di Pareto balza gli occhi ovvero noi siamo governati da una classe dirigente completamente corrotta e completamente incapace questi complessi di superiorità sono molto pericolosi per una serie di ragioni primo luogo perché sono incompatibili con lo spirito della Costituzione italiana la Costituzione italiana concepisce tutti i popoli sul piano di eguaglianza e sul piano di parità quindi dal punto di vista pedagogico la Costituzione italiana scoraggia un tipo di narrazione che si fonda sull'idea della superiorità rispetto agli altri la seconda ragione per cui questi complessi di superiorità sono pericolosi è perché hanno dei legami molto forti con la cultura nazista e con la cultura fascista semplicemente noi non ce ne accorgiamo perché i nazisti giustificavano come ho detto questa superiorità con la pelle noi la giustificiamo con la democrazia ma entrambi sia noi italiani francesi tedeschi americani del 2024 sia nazisti in nome di questa superiorità giustifichiamo qualunque tipo di sterminio c'è un'intervista di questo punto di vista un'altra politica culturale un'intervista importantissima ne parlo nel mio primo libro che è Paper First quello che si dice da Ucraina critica della politica internazionale un'intervista alla Albright che sarebbe stata segretaria di Stato americano e prima dell'invasione dell'Iraq del 2003 l'Iraq era stato colpito da sanzioni pesantissime da parte dell'Occidente queste sanzioni pesantissime avevano fatto venire meno in Iraq tante cose tra cui medicinali morale della favola secondo i dati Ono queste sanzioni hanno causato la morte di 500.000 bambini iracheni 500.000 bambini iracheni mezzo milione di bambini iracheni morti per le sanzioni occidentali e questa celebre intervistatrice chiede alla Albright sono morti 500.000 bambini a causa delle sanzioni occidentali delle democrazie occidentali più dei bambini uccisi dalla bomba atomica in Giappone lei pensa che ne sia valsa la pena e la Albright risponde non è facile rispondere a questa domanda però sì ne valsa la pena e ne valsa la pena perché la democrazia i nazisti avrebbero risposto voi avete ucciso 500.000 bambini ebrei ne valsa la pena sì ne valsa la pena perché la razza bianca il sangue dei tedeschi è la cosa che conta di più si possono uccidere 500.000 bambini ebrei in nome della pelle bianca noi oggi diciamo si possono far morire 500.000 bambini iracheni in nome della democrazia dal punto di vista logico che cosa non funziona in questo discorso nel non aver capito che la democrazia è soltanto una forma di governo è una forma di governo e il fatto che la democrazia esista non implica di necessità che la democrazia non possa sterminare milioni di persone infatti lo studio della storia mostra che le democrazie occidentali hanno sterminato milioni di persone si pensi soltanto alla bomba di Nagasaki Hiroshima si pensi a quello che accade a Gaza è un problema anche storico un problema culturale un problema logico dire ma noi siamo democrazie occidentali ho capito ci sono dittature che non uccidero nessuno ma ci sono democrazie che ammazzano 35.000 palestinesi in 212 giorni sono quanti giorni di guerra siano un altro grande problema a spiegare nel primo capitolo del libro dei complessi di superiorità è che sono pericolosi sono pericolosi perché ci spingono a sottovalutare i pericoli e le minacce che è esattamente quello che abbiamo fatto con la Russia quando è scoppiata la guerra io avevo lavorato molto sui complessi di superiorità dell'Occidente e quindi ho fatto un lavoro autocritico per capire dove potessero albergare questi complessi di superiorità della mia cultura e siccome me ne sono in larga parte liberato guardandoli in faccia ho detto guardate che la Russia distruggerà l'Ucraina ed è esattamente quello che è accaduto perché l'Ucraina è ormai spacciata voi avete sentito l'altro giorno di questi tentativi di assassinare Zelensky che sono stati raccontati come tentativi da parte di Putin di assassinare Zelensky purtroppo non è così perché chi vuole uccidere Zelensky in questa fase non è Putin Putin ha un interesse che Zelensky rimanga al potere perché Zelensky è un uomo debolissimo quindi Putin ambisce a trattare la resa con Zelensky sia per una ragione simbolica perché è il suo nemico e quindi vuole sottometterlo sia perché è più semplice Zelensky è una persona inesperta incompetente un leader molto debole e molto incapace chi vuole uccidere Zelensky in questo momento sono le persone che sono accanto a Zelensky c'è una parte delle persone a Kiev che ha la consapevolezza che l'Ucraina ormai è spacciata e pensa che assassinandolo possa l'Ucraina trattare in una condizione di più favorevole con Putin perché tra Zelensky e Putin c'è anche un odio personale e tutto questo accade perché l'Ucraina è spacciata la guerra la fine della guerra in Ucraina coinciderà con la fine dell'Ucraina l'Ucraina sarà smembrata Zelensky si arriverà a lui al tavolo delle trattative verrà sottomesso e umiliato e dovrà accettare le condizioni di Putin questa però è soltanto la migliore delle ipotesi con la ottimistica perché l'ipotesi pessimistica è che l'Ucraina venga distrutta dalle testate nucleari perché si potrebbe verificare anche la circostanza che la Nato decide di attaccare la Russia e la reazione della Russia sarebbe colpire l'Ucraina con le testate nucleari ma in entrambi i casi l'Ucraina è spacciata perché se Putin colpisse l'Ucraina con le testate nucleari la guerra finirebbe in poco tempo comunque con lo smembramento dell'Ucraina e la sua sottomissione alla Russia quindi quando è scoppiata la guerra io ho detto guardate che questi sono complessi di superiorità noi dobbiamo proteggere il popolo ucraino dobbiamo subito avviare una trattativa non dobbiamo investire nella guerra io non ho mai detto che ne avremmo dovuto abbandonare l'Ucraina o addirittura lasciarla senza armi ho detto noi dobbiamo investire nella diplomazia voi state investendo nella guerra la vostra strategia è quella di sconfiggere la Russia sul campo la mia strategia è quella di chiudere subito l'accordo con Putin perché l'Ucraina sarà distrutta che è esattamente quello che avete davanti agli occhi la distruzione dell'Ucraina ora io non posso entrare in dettagli ma posso soltanto dirvi che gli ucraini sono semplicemente spacciati è una questione soltanto di tempo però i nostri complessi di superiorità ci hanno portato a interpretare in maniera errata le mosse di Putin intanto i nostri complessi di superiorità ci hanno portato a scrivere in mezzo del Corriere della Sera che la Russia sarebbe andata in manca notte in pochi giorni io poi vi racconto tutto nel libro vi costruisco tutti questi articoli poi i missili di portate la prima volta che Putin lancia i missili fu subito scritto Putin ha missili soltanto per un'altra settimana cioè questi missili non finiscono più perché la Russia è semplicemente una potenza militare spaventosa e abbiamo pensato di poter sconfiggere la Russia sul campo con le conseguenze che tutti abbiamo sotto gli occhi ma la cosa più tragica è che il peggio deve ancora arrivare perché Putin ha appena iniziato a distruggere l'Ucraina nel 2024 e nel 2025 saranno anni addirittura peggiori per l'Ucraina rispetto a quelli che ha vissuto finora infatti all'inizio della guerra io dissi vedrete che con il passare del tempo la Russia diventerà sempre più forte e l'Ucraina diventerà sempre più debole quindi vedete anche il caso di Avdivka di come le roccaforti ucraine stiano cadendo più rapidamente rispetto al passato semplicemente perché l'esercito ucraino oggi è infinitamente più debole rispetto a due anni fa e l'esercito russo è infinitamente più forte rispetto a due anni fa noi pensavamo che Putin fosse stupido a causa dei nostri complessi di superiorità mentre Putin è stato molto intelligente perché ha utilizzato la strategia che si chiama strategia incrementale Putin è entrato con 180.000 soldati in Ucraina e ha pensato di chiudere subito un accordo per non fare questa guerra perché non aveva nessuna voglia di fare questa guerra di portarla avanti che gli costa tanti soldi un grande investimento e tanti problemi a questo punto Putin che non è stupido è semplicemente una persona intelligente ha fatto dei calcoli e ha detto se io entro subito con un milione di soldati io spaventerò le potenze occidentali e quindi rafforzerò i falchi cioè fornirò un argomento che dicono dobbiamo investire tantissimo nella guerra in Ucraina perché Putin è entrato con un milione di soldati sono così tanti perché vuole invadere anche la Polonia e la Slovacchia e così via quindi Putin per non rafforzare i falchi e le nostre democrazie ha iniziato con 180.000 soldati e in una conferenza del 17 dicembre del 2023 ha dichiarato che adesso i soldati rossi in Ucraina sono 617.000 e ne sta aggiungendo altri un po' alla volta noi non ce ne siamo accorti abbiamo smesso di parlare dell'Ucraina e Putin sta distruggendo l'Ucraina e ci sono altre ragioni di cui parlo nel libro per cui Putin ha scelto una strategia incrementale e quello che viene fuori ancora una volta è che questi complessi di superiorità a un certo punto noi ci dovremmo svegliare e riconoscere che gli incompetenti gli incapaci gli impreparati e gli stupidi siamo stati noi e non la Russia quindi al primo capitolo spiego appunto tutte le mosse che la Russia ha fatto dal 2014 finora per diversificare la sua economia per diversificare anche i suoi clienti anche sulle riviste accademiche la Russia ha iniziato a diversificare i suoi clienti investire molto nella Cina molto nell'India perché sapeva che a un certo punto o temeva che a un certo punto ci sarebbe stata una guerra con l'Ucraina e sarebbe stato colpito dalle sanzioni noi invece che cosa abbiamo fatto in tutto questo tempo noi che ci pensiamo superiori più intelligenti siamo legati spaventosamente al gas russo sempre di più la Russia ha cercato altri clienti noi abbiamo investito sempre di più nel gas e nel petrolio della Russia con le conseguenze che tutti abbiamo davanti agli occhi anzi quasi nessuno perché siccome come dico sempre il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è completamente corrotto Emilia non ci spiegano quali danni stia subendo l'economia italiana a causa della guerra in Ucraina perché la funzione dei media in Italia è quella di creare consensi intorno alla guerra in Ucraina intorno alle politiche della Nato quindi non bisogna spiegare agli italiani i danni che stanno ricevendo a causa della guerra in Ucraina questo è il tema del primo capitolo ma è anche il filo conduttore del libro perché terminato il primo capitolo messo a fuoco questo problema dei complessi di superiorità io spiego che i complessi di superiorità hanno ricaduto anche nella ricerca scientifica e nel dibattito pubblico ad esempio la domanda che io sollevo è perché nessuno in Italia si è mai posto questa domanda Israele è uno stato terrorista e la mia risposta è sono le ragioni sono varie non è soltanto una ma una quella che mi interessa indagare mi interessa il fenomeno culturale in questo libro chiaramente ci sono anche delle lobby che impediscono che questi temi vengano trattati non vedete quello che è successo a me ma la ragione culturale è che queste sono domande che mettono in discussione le nostre certezze autologiche e quindi i nostri complessi di superiorità infatti gli italiani pensano che esista soltanto un tipo di terrorismo che è il terrorismo degli attori non statali ad esempio l'isiste Al-Qaeda in realtà nella letteratura scientifica esistono due tipi di terrorismo che sono il terrorismo degli attori non statali e il terrorismo degli stati anche gli stati usano il terrorismo il secondo capitolo del libro risponde alla domanda Amas è un'organizzazione terroristica e il terzo capitolo risponde alla domanda Israele è uno stato terrorista adesso non vi parlerò di tutti i contenuti del libro anche perché non c'è tempo ma soprattutto vi toglierei magari anche il piacere della lettura ma a questo terzo capitolo tengo in maniera particolare a questo libro perché introduce per la prima volta in Italia una serie di concetti di teorie che non esistono nel nostro paese non hanno mai avuto circolazione e in particolare il terzo capitolo è il tentativo di introdurre per la prima volta in Italia questo concetto il concetto del terrorismo di Stato è una delle più grandi gioie della mia carità intellettuale di aver introdotto questo concetto nel dibattito italiano perché io vedo che sempre più ragazzi anche i miei colleghi qualche giornalista in televisione dice quello di Israele è il terrorismo di Stato questo è un concetto che ho introdotto io nel dibattito pubblico non esisteva e nel terzo capitolo fornisco una serie di elementi per riflettere su questo tema ora senza entrare troppo nello specifico vi presento la mia definizione di terrorismo di Stato nel libro la spiego in questo incontro non posso sviscerarla ma terrorismo di Stato è l'uso spropositato della violenza politica per diffondere il terrore in una popolazione in difesa senza via di fuga per piegarla all'agenda del governo questa è la definizione che propongo nel libro e poi la spiego cioè che cos'è il terrorismo di Stato il fatto che un governo usa la violenza politica in maniera spropositata che vuol dire in che senso spropositata violando i diritti umani i diritti internazionali i diritti di guerra quindi fondamentalmente violenza omicida quindi questo governo utilizza la violenza in maniera spropositata per terrorizzare la popolazione e utilizzare il terrore come arma psicologica per piegare quella popolazione ai propri scopi i scopi del governo un esempio molto semplice io in realtà del terrorismo di Stato mi sono occupato del mio libro precedente che si chiama Anatomia delle Brigate Rosse è uscito in prima edizione nel 2009 poi è stato tradotto negli Stati Uniti di recente anche in arabo nel 2019 è stato tradotto da una casa editrice di Baghdad nella seconda parte di Anatomia delle Brigate Rosse io parlo del terrorismo di Stato nella Francia giacobina in Europe Spier diciamo una rivoluzione giacobina diciamo 1793 1794 2 giugno 1793 21 giugno 1794 poi il libro si occupa Anatomia delle Brigate Rosse si occupa del terrore di Stato in Russia sotto Stalin del terrore di Stato in Cina sotto Mao del terrore di Stato in Cambogia sotto Kupot quindi avevo già dimestichezza con questo concetto adesso io che cosa ho fatto? l'ho affinato ulteriormente e l'ho applicato al caso di Israele che cosa è interessante? secondo me Anatomia delle Brigate Rosse è un libro che ho ripubblicato pochi mesi fa e l'ho pubblicato un quanti anni fa 15 anni fa non ho cambiato nemmeno una parola perché lo riscriverei nello stesso modo lo trovo attuale nonostante per 15 anni abbiamo continuato a fare ricerche scientifiche sul terrorismo su questi temi considero Anatomia delle Brigate Rosse un libro ancora attuale infatti ho scritto diciamo un appendice per riassumere tutti i miei studi scientifici sul terrorismo negli ultimi dal 2009 fino ad oggi ma non ho cambiato il testo e Anatomia delle Brigate Rosse spiega che la parola terrorismo è stata creata è stata coniata è stata inventata per descrivere il terrore giacobino è interessantissimo questo per vedere l'evoluzione dei concetti l'evoluzione delle parole cioè la parola terrorismo che noi oggi associamo soltanto agli attori non statali cioè movimenti collettivi gruppi sociali eccetera nasce per descrivere la condotta di uno stato uno stato francese sotto Robespierre che decapitava migliaia e migliaia di persone e Robespierre infatti utilizza la parola terrore nel suo discorso il celebre discorso della convenzione in cui lui utilizza la parola terrore in maniera molto diversa rispetto a quelli contemporanei perché per noi ha assunto un'accezione negativa questa parola mentre per Robespierre aveva un significato positivo quindi lui utilizzava questo termine con grande orgoglio come un fatto positivo noi usiamo il terrore perché il terrore è la strada che conduce la virtù eccetera eccetera quindi ha cambiato il significato con la terrorismo all'inizio nasce per descrivere l'attività di uno stato e dà un significato positivo poi ci descrive l'attività degli attori non statali ed ha un significato negativo io cerco di ritornare all'origine di questa parola come insieme a Derrida tutte le generazioni attribuiscono vari significati alla stessa parola si vengono a creare degli strati intorno a una parola è importante fare questo lavoro di tornare indietro togliere questi strati e capire quello che c'è all'inizio e all'inizio la parola terrorismo è per designare per indicare il comportamento di uno stato a questo punto però io individuo dieci comportamenti di Israele perché in sociologia quello che è fondamentale operativizzare i concetti che cosa significa nella ricerca sociale operativizzare un concetto significa che tu devi un concetto astratto e lo devi trasformare in uno strumento di ricerca empirica trasformarlo in una variabile perché in sociologia noi i concetti li dobbiamo osservare per poterli misurare per poterli confrontare quindi io dico questo nella letteratura scientifica il termine terrorismo di stato è spesso utilizzato in maniera non troppo chiara secondo me spiego uno stato è terrorista se fa dieci cose se assume dieci tipi di comportamento elenco questi dieci comportamenti e mostro che Israele rientra perfettamente in questa categoria perché l'azione di Israele a Gaza in Cisjordania corrisponde perfettamente a questa condotta complessiva si occupano di dieci comportamenti differenti tutti insieme questi comportamenti che erano il terrore in una popolazione vi parlerò soltanto di uno di questi dieci comportamenti perché è una delle questioni più attuali nel dibattito italiano voi sentite ripetere continuamente che il problema in Palestina è Netanyahu io adesso cercherò di dimostrarvi che questa interpretazione dominante ancora una volta è legata ai nostri complessi di superiorità per quale motivo noi sentiamo ripetere tutti i giorni che il problema è Netanyahu che Netanyahu è il traditore di Israele e se noi togliamo Netanyahu di mezzo tutti i problemi saranno risolti perché noi abbiamo abbracciato questa narrazione falsa perché non vogliamo vedere e questa documentazione storica lo rivela in maniera nitida che il problema non è Netanyahu è lo Stato israeliano il problema è la classe dirigente di Israele perché il massacro del popolo palestinese è iniziato prima che Netanyahu diventasse premier israeliano ma i nostri complessi di superiorità vedete qui le strategie cognitivi per sentirsi migliori degli altri per sentirci migliori degli altri ci spigono a creare delle narrazioni false per poter preservare quel complesso di superiorità il problema non sono le democrazie occidentali ma sono le politiche delle democrazie occidentali almeno dal 1967 fino ad oggi nei territori palestinesi il problema non è questo il problema è Netanyahu perché le democrazie occidentali sono buone non potrebbero mai collaborare allo stermine di un popolo in questo caso lo stermine del popolo palestinese questa idea di ridurre la politica internazionale al capriccio individuale è sbagliata e noi la ritroviamo anche nella guerra in Ucraina che cosa abbiamo detto noi per preservare i nostri complessi di superiorità abbiamo detto la guerra in Ucraina nasce cioè non io nel Corriere della Sera nella Repubblica Libero la stampa il foglio il giornale e tante trasmissioni telefoniche televisive il progetto la guerra in Ucraina sono fatto una causa una la pazzia di Putin infatti questi giornali dicevano poi a un certo punto Putin verrà assassinato perché l'Occidente è una civiltà superiore quindi è ovvio che il 100% dei russi siano schierati dalla parte dell'Unione Europea e della Nato e dell'Occidente follia allo Stato puro ma questo è quello che ci consegna una documentazione storica migliaia di articoli e di documenti scritti che hanno sostrutto questa tesi la guerra in Ucraina nasce dal capriccio di un singolo individuo tutto il popolo russo nessuno escluso è schierato dalla parte dell'Occidente e non potrebbe essere diversamente perché l'Occidente è la civiltà superiore e quindi essendo la civiltà superiore è ovvio che tutti i popoli vorrebbero essere come noi infatti la nostra narrazione per preservare i nostri complessi di superiorità qual era? Putin sarà ucciso dai suoi stessi generali e se non sarà ucciso dai suoi stessi generali sarà ucciso da un'insurrezione dei russi quando ci fu la rivolta di Prigocin questa fu la narrazione adesso vedrete ci sarà rivolta Putin e Fede dice non c'è così la rivolta di Ingrid che disse a carta bianca rafforzerà il regime di Putin perché non è vero che tutti i colpi di Stato finiscano con l'indebolimento di colui che lo subisce invece nella comparazione con il caso della Turchia dove Erdogan subì un colpo di Stato addirittura peggiore di quello di Putin più forte che mai molti altri dicevano no questo colpo di Stato indebolirà tragicamente Putin lo renderà più forte infatti lo ha reso più forte e l'abbiamo visto anche a queste elezioni quello che noi scopriamo è che i russi non avevano l'accidente odiano l'occidente odiano l'incidente disprezzano le democrazie occidentali però la narrazione secondo cui la colpa di Putin andava bene perché era una strategia cognitiva per sentirci migliori degli altri per sentirci superiore degli altri e nel mio primo libro sull'Ucraina io presento tutta la documentazione disponibile per ricostruire le cause profonde della guerra in Ucraina in particolare in quel libro io ho ricostruito 15 crisi internazionali tra la Russia e l'Occidente e le ho sviscerate singolarmente mostrando quanto siano antiche le cause della guerra in Ucraina e faccio partire l'investigazione dal 1999 il bombardamento nato dalla Serbia oggi noi stiamo facendo lo stesso errore con la guerra in Palestina siccome non vogliamo rinunciare alle nostre certezze ontologiche pensiamo che il problema sia soltanto l'etania così come prima pensavamo che il problema fosse Putin no non è così il problema sono le democrazie occidentali al gran completo se i palestinesi si trovano in una condizione così tragica è perché tutte le democrazie occidentali in questa tragedia sono dentro il collo proprio un altro giorno nel mio canale YouTube non so se ci siano persone che lo seguono ma se ci possono le ringrazio ho fatto un video per spiegare quale sia il vero obiettivo di Israele a Gaza perché l'obiettivo dichiarato la sociologia insegna il realismo politico insegna che bisogna andare sempre dietro le dichiarazioni ufficiali dei politici e che le dichiarazioni ufficiali quali sono? che questa guerra è per distruggere Hamas nella mia tesi la mia contratesi è molto diversa la mia contratesi è questa che l'obiettivo fondamentale di Netanyahu non è la distruzione di Hamas intanto è vero che come voi saprete Netanyahu ha lavorato per rafforzare Hamas ci sono ormai documenti che lo dicono inequivocabilmente prima del 7 ottobre del 2023 Netanyahu ha parlato al suo partito e ha spiegato che la strategia da molti anni avanti era rafforzare Hamas consentire Hamas di ricevere tanti miliardi anche dal Qatar perché in questo modo si sarebbe mantenuta la separazione tra Hamas Gaza e l'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen in Cisgiordania perché la missione esistenziale di Netanyahu è di impedire che nascono Stato palestinese ora siccome noi non facciamo altro che ripetere iponcretamente che i palestinesi hanno diritto a uno Stato ma poi dopo non riconosciamo le esistenze di uno Stato palestinese Netanyahu che cosa sta facendo? sta distruggendo al Mish a distruggere il 100% delle case dei palestinesi il 100% degli ospedali il 100% delle scuole delle moschee dei sistemi fognari il sistema idrico il sistema elettrico perché? perché in questo modo cambierà la scala delle priorità dei palestinesi per chiedere questo concetto questa strategia ho fatto ricorso a un concetto fondamentale della sociologia fenomenologica che è il concetto della realtà della vita quotidiana la nostra coscienza è in grado di percepire realtà differenti livelli diversi della realtà ad esempio la mia coscienza è in grado di percepire di sapere che in questo momento esiste una realtà in New York o una realtà in Siria ma la realtà suprema è la realtà della vita quotidiana sono le persone che noi accontriamo quando andiamo al lavoro la nostra casa i nostri familiari la realtà della vita quotidiana è la realtà che può ferire la nostra pelle quando saliamo sull'autobus la realtà che noi troviamo sull'autobus per noi è finisamente più importante della realtà che c'è in New York oppure in Ucraina e in realtà della vita quotidiana ora la realtà della vita quotidiana dei palestinesi è stata completamente sconvolta perché la loro realtà della vita quotidiana è i soldati israeliani per strada da cui sono massacrati la mancanza di cibo la mancanza di acqua la mancanza di una casa i palestinesi i palestinesi quando sarà finito questo massacro messo nel frio di scala non avranno come problema la costruzione di uno stato sarà l'ultimo problema per i palestinesi quello che l'Italiano sta facendo quello che le democrazie occidentali stanno facendo è risospingere i palestinesi verso l'età della pietra in maniera tale che debbano ripartire da zero ricostruire tutto ricostruire impianti fognari il sistema elettrico il sistema idrico le case non hanno cibo non hanno acqua le scuole le moschee gli ospedali quando questa guerra sarà finita i palestinesi penseranno a tutto tranne di tranne di investire le loro energie che non hanno e i loro soldi che non hanno per la costruzione di uno stato palestinese quando Gaza un giorno chi lo sa se quel giorno verrà mai sarà ricostruita molto probabilmente ci sarà un altro Netanyahu che riprenderà a distruggerla perché l'obiettivo fondamentale delle democrazioni occidentali al di là della loro retorica ipocrita è che i palestinesi non debbano avere uno stato perché se i palestinesi avessero uno stato le democrazioni occidentali ne avrebbero molti danni per tutta una serie di ragioni geopolitiche che qui non voglio sviscerare il quarto capitolo è dedicato a quattro lezioni sulla scienza quando è scoppiata la guerra in Ucraina ne abbiamo visto che analisti conduttori televisivi politici hanno completamente perso la testa e non hanno lavorato con professionisti non hanno mantenuto quel distacco emotivo dal loro oggetto di studio quindi erano tutti impazziti non facevano altro che urlare offendere diffamare insultare nel quarto capitolo io presento quattro lezioni per diventare uno scienziato sociale e spiego che la prima di queste lezioni è il distacco emotivo dal proprio oggetto di studio il fatto che io faccia che un conduttore di primo studio faccia il tifo per la Nato non implica non gli consente di fare delle analisi per dimostrare che la Nato distruggerà la Russia deve rimanere emotivamente distaccato noi che cosa abbiamo sentito fare a giornalisti analisti professori universitari di relazioni internazionali che cosa hanno detto per ora e ora in televisione che la Russia era debolissima professore di relazioni internazionali professore di scienza politica che la Russia era debolissima erano soltanto i loro desideri infantili ammantati presentati come analisi scientifiche un delirio le analisi serie oggettive basate sui rapporti di forza sono state presentate come propaganda filo-russa e questi deliri secondo cui Putin sarebbe stato sconfitto facilmente da Zelensky sono state raccontate come analisi scientifiche questo che cosa significa? che le democrazie occidentali e ancora i nostri complessi di superiorità non sono affatto al riparo dalla demagogia dagli imbroglioni dai corrotti infatti lo dico sempre a volte in televisione ci sono persone che dicono io sono un professore universitario sono titolato a parlare di queste cose sì ma tu devi essere giudicato sulla base di quello che dici perché magari sei un professore universitario però sei anche un corrotto oppure hai delle pubblicazioni scientifiche ma il fatto che tu abbia delle pubblicazioni scientifiche non implica di necessità il fatto che tu non sia incorrotto che tu vada in televisione perché sei legato a un certo governo perché sei legato a un certo tipo di interessi perché certi gruppi di poteri finanziare le tue ricerche e poi vedete le democrazie occidentali non sono né un paradiso e nemmeno sono al riparo di tutte quelle dinamiche così penose afflittive per le nostre libertà che troviamo dalle dittature infatti il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale funziona esattamente come nelle dittature dal punto di vista sociologico che cos'è una funzione una funzione è un'attività una funzione è un'attività e il funzionalismo è un modo di analizzare la società ce ne sono vari questo è un tema che ho affrontato nel mio libro Teorie sociologiche classiche contemporanee sono tanti approcci in sociologia e tipi di spiegazione diversi per esempio posso parlare di tre tipi diversi di spiegazione c'è la spiegazione causale che è una spiegazione che si basa su rapporti di causa-effetto quindi ad esempio io voglio spiegare la guerra in Ucraina la voglio spiegare causalmente cerco di costruire gli antecedenti storici come cause di fenomeni cause-effetto spiegazione causale poi questo è un tipo di spiegazione per la scienza ce ne sono altri c'è per esempio la spiegazione funzionale che cerca di spiegare i fenomeni in base alla funzione che svolgono quindi una spiegazione funzionale della guerra in Ucraina potrebbe essere qual è la funzione che la guerra in Ucraina svolge per gli Stati Uniti per esempio separare l'Europa dalla Russia spiegare la funzione e poi c'è anche la spiegazione teleologica la spiegazione teleologica è una spiegazione che cerca di spiegare un fenomeno sulla base del fine cui tende quindi come spiegò la guerra in Ucraina perché Putin persegue questo fine è molto diverso dalla spiegazione causale che in genere si basa su antecedenti c'è la spiegazione teleologica si spiega non su quello che è successo prima ma sugli obiettivi che vogliamo raggiungere nel futuro verso i quali noi siamo protesi e dal punto di vista funzionale funzionalistico il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale svolge la stessa funzione stessa attività che svolge nelle dittature nelle dittature l'informazione sulla politica internazionale è un'informazione distorta fondamentalmente propaganda per sorreggere le scelte dei governi da un punto di vista sociologico quello che l'informazione in Italia ha fatto una guerra in Ucraina dico sociologicamente è esattamente la stessa cosa che ha fatto in Cina in Corea del Nord in Siria in Russia in Iran cioè distorcere la realtà per sorreggere le scelte dei governi in questo caso il governo Draghi e poi il governo Meloni e le scelte della Nato quindi sì siamo una democrazia occidentale questo vuol dire che le democrazie occidentali sono uguali alle dittature no perché un sociologo non può fare affermazioni così disinvolte quello che un sociologo può fare è individuare alcuni aspetti specifici di una società riflettere su quelli porli a confronto con gli aspetti di un'altra società perché altrimenti non fai sociologia e ideologia e dire tra le democrazie occidentali e le dittature ci sono differenze no? il sistema dell'informazione sulla politica internazionale in Italia funziona organizzato come nelle dittature svolge la stessa funzione alle stesse finalità questo è scientificamente osservabile un'affermazione di questo tipo può essere confutata però se conduceste una ricerca sociologica su questo vedreste che le cose state esattamente così e nell'ultimo capitolo mi occupo della previsione un tema molto importante perché quando io ho fatto la mia previsione sulla guerra in Ucraina molti miei detrattori diffamatori persone gentili varie dissero mi prendevano in giro qualcuno diceva che mi ricordo delle battute alcune erano anche divertenti devo dire la verità ma questo purtroppo è frutto di una grande ignoranza cioè la te secondo me tra il regno e i sorsini fa delle previsioni qui siamo all'inizio della guerra ora le mie previsioni sono davanti agli occhi tutti sono verificate ma all'inizio della guerra non si possono fare previsioni della scienza sociali è falso è frutto di ignoranza gradissima ignoranza perché c'è tutto un dibattito epistemologico sulla previsione delle scienze sociali di cui parlo nel quinto capitolo per esempio il modello Emper Popper e mostro nel quinto capitolo come quelle mie previsioni fossero radicate dentro la struttura della spiegazione scientifica e ovviamente non approfondisco questo tema ma questo è il senso del quinto capitolo in conclusione adesso vado verso la conclusione e questo mio libro è dentro un progetto culturale di più ampio respiro che sto cercando di proporre nel mio paese cioè introdurre la critica della politica internazionale perché in Italia non esiste la critica della politica internazionale gli istituti di ricerca sulla politica internazionale sono compenetrati dal potere politico e questo l'abbiamo visto i vari direttori di questi istituti di politica internazionale che cos'erano? semplicemente dei portaborse ma erano stati le portaborse di questo con il ministro e avevano conservato questi legami fortissimi con i partiti politici con le persone che hanno posti con stipendi stellari dentro questo del consiglio di amministrazione e in Italia non esiste la critica della politica internazionale perché per tutta una serie di ragioni la più importante delle quali è il fatto che è un argomento senza mercato la politica internazionale è gestita dai governi fondamentalmente perché? perché è un argomento che tra virgolette non tira infatti una delle mie speranze è che possa appassionare un numero sempre più grande di persone ai temi della politica internazionale per creare condizioni più favorevoli a un'informazione più libera che non ha mercato e magari uno studente si laurea in relazioni internazionali in sociologia delle relazioni internazionali il fatto di grande ignoranza è anche pensare che i sociologi non si occupino di relazioni internazionali senza sapere che esiste una disciplina che si chiama sociologia delle relazioni internazionali vabbè ma è un ragazzo che si laurea in sociologia delle relazioni internazionali in teoria delle relazioni internazionali e poi ha un problema a trovare lavoro esistono le eccezioni ma generalmente questi posti di lavoro vengono creati dai governi o vengono creati gli istituti di ricerca che sono collegati ai governi che ricevono finanziamenti dai governi e quindi ponetevi una domanda perché tutte le volte che in televisione sentite parlare una persona anche in radio una persona che lavora per questo quell'istituto di ricerca non capita mai che rivolgono una critica alla Nato al governo in carica e com'è possibile che questi studiosi di politica internazionale dicano che nel 100% delle crisi nel 100% delle crisi l'Occidente abbia sempre ragione questo da un punto di vista statistico è significativo e anomalo com'è possibile che tutte le volte che scoppia una crisi tra l'Occidente e l'Iran l'Occidente e la Corea del Nord l'Occidente e la Siria l'Occidente e la Libia l'Occidente la Russia l'Occidente e la Cina com'è possibile statisticamente che nel 100% dei casi la ragione sia sempre e completamente dalla parte dell'Occidente è chiaro che anche statisticamente non è possibile se voi utilizzaste il metodo scientifico e se ascoltasse le trasmissioni televisive radiofoniche e leggeste i giornali usando il metodo scientifico e accumulaste articoli discorsi delle trasmissioni le trascriveste come facciano i sociologi e accorgereste che questo fatto stupefacente certo a punto di vista statistico nel 100% dei casi l'Occidente ha sempre ragione questa è una prova certa che il sistema dell'informazione è completamente corrotto perché non è possibile nemmeno dal punto di vista statistico che uno Stato o un gruppo di Stati abbia sempre ragione nel 100% dei casi che le ragioni siano sempre dalla parte dell'Occidente quindi questi miei libri questo è il secondo però ne farò un terzo cercano di introdurre la critica della politica internazionale cioè utilizzare la teoria sociologica per studiare per parlare della politica internazionale nel rispetto del progetto illuministico che come sapete ripete di portare davanti al tribunale della ragione qualunque fatto o affermazione senza fare sconti a nessuno molto molto difficile in un paese come l'Italia ma non soltanto in Italia perché la situazione della Germania della Francia del Belgio è esattamente come il problema in Italia cioè il sistema dell'informazione sulla politica internazionale completamente penetrata dal potere politico però diciamo che sto cercando di fare questo tipo di lavoro io vi ringrazio molto di aver avuto la presenza di ascoltarmi ma soprattutto ringrazio tutti coloro che hanno fatto un viaggio per venirmi a sentire e io devo dire che non sono proprio in grandissima forma perché a mia volta ho fatto un viaggio molto lungo in macchina ho guidato per quasi 5 ore e adesso devo tornare indietro quindi sono arrivato già a fine giornata come energie diciamo così quindi dico questo dico questo in solidarietà a coloro che hanno viaggiato per venirmi ad ascoltare e io vi ringrazio molto avete fatto un viaggio per ascoltarmi ho fatto un viaggio per parlare con voi quindi grazie molto tutto il cuore anche a coloro che mi seguono sui canali youtube e in tanti modi mi manifestano affetto e stima e vicinanza io spero anche che il libro possa piacervi e speriamo di rivederci presto magari qui con un altro libro grazie 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 grazie